Bella raga, siamo in un nuovo video di Mountain Bike Adventure e oggi siamo nel ritorno di Casa Bastone con Andrea Allora, innanzitutto siamo ritornati a Casa Bastone perché lo volevo far vedere Andrea dato che è venuto con noi a Iavello, che è la giù dovrebbe essere in sostanza e ho portato Andrea oggi perché lui se la fa molto bene nei trail e quindi nonostante aveva una fronte e quindi l'ho voluto portare per fargli vedere un po' la discesa e l'esperienza di Casa Bastone e della salire e quindi in settimana ho fatto un po' di modifiche alla bici ho innanzitutto preso degli sticker su Amazon quindi personalizzati con il proprio nome e la vendetta d'Italia e poi ho messo il parafango sia anteriore che posteriore perché mi ero rotto abbastanza le scatole di arrivare a casa tutto con la moto o meglio, la moto la prende lo stesso, però in minore quantità quindi mando le ciance, ci giriamo e iniziamo questa discesa let's go let's go let's go let's go let's go let's go Grazie a tutti. Ok raga, in questo primo pezzetto cercherò di stare molto zitto perché il trail non è in buone condizioni. E quindi cercherò di stare più concentrato possibile. In questa parte diciamo che il trail si è calmato un po', o meglio nel senso che in quella parte dove ho fatto questo taglio, come vi ricordate nello scorso episodio di fase a bastone, c'era un tratto dove era quasi impossibile fare l'imbiscia. E quindi l'ho tagliato perché non mi sembrava giusto, cioè non mi sembrava ideale. Comunque ora accendiamo anche la discesa. Ricordo che questo trail lo potete vedere sia su Trailforce che su Komut. Comunque lascio sempre il link in descrizione per visionare il trail, se lo voleste fare. E' questa. Anche da vedere che ora, con tre corda, questa parte è una delle più dure. O meglio delle più dure, dipende. Perchè è abbastanza ripida la situa, o meglio il sentiero diventa relativamente ripido, da chi potrà a 200 metri. Però vediamo di facile. Certo, anche nella seconda parte del trail, dove dopo la zona disbostata è brutta la situa, però non certo con questa. Certo, anche nella seconda parte del trail. Il trail è molto ripido, quindi è molto facile sbagliare. Ok, qui sembra che la situa sembra calmarsi. Andiamo un po'. Ok, sì, dai. Siamo arrivati anche alla sosta molto molto carica. Comunque ora, prima di partire, aspetto gli altri. Comunque raga, prima quando si saliva, avevo visto questa trail, che dovrebbe portare verso Sardinart. Ora, mi è sorta una domanda. Se lo facessi, a ritorno, beh, e poi gli altri mi hanno detto no, meglio di no. Poi ci si perde, è giustamente ragione. Però, c'ho una mezza idea di farlo. Comunque ora, sento gli altri e vediamo. Ok, ci siamo riuniti tutti e ora sei fatti. Ok, ci siamo riuniti tutti. Ok, ci siamo riuniti tutti. Non e qui cerco di andare in piano perchè mi devo rilassare le dita e le mani perchè mamma mia non mi sento più e quindi non è una bella cosa e qui c'è un salto di falso piano, non è un posto di rosario ma qui c'è troppo oia, nice cazzo, tanta roba qui comunque si il bello di questa discesa è che è tecnica però in dei punti che ti puoi divertire anche a fare dei drop naturali che sono già stati creati da questi sassi quindi è anche questa la parte bella di questa discesa cazzo, ho sentito un brutto rumore, mamma mia ora vado un po' più piano perchè si, è successo cosa penso io allora, eheheh, è un po' in quel modo la situazione tanto che la curva molto molto brutta ah cazzo, le mani madonna che male ragazzi ah cioè questo prezzo è bello ragazzi questo come ho detto prima questa discesa è bella però è è metta a dura prova il ride perchè l'acqua oddio, oddio mamma mia eh eh questo è un cazzo di sassi che mi hai fatto sviluppare che bastardo e qui arriva il pezzo brutto e qui devi frenare perchè se non ti vuoi schiantare contro questa frana sassi e sopravvivere ok ecco i finish ecco i finish guardi coglio mamma mia ragazzi mamma mia mai parlare prima di finire il pre-hill perchè ho preso un altro sasso nella parte del movimento centrale e non ha fatto un grassone quasi se l'ho visto ok comunque e qui appunto è l'ultima parte anche questa assai tecnica oh mamma mia che soddisfazione ragazzi comunque questa è la discesa e niente raga ora aspetto gli altri e posso dire con certezza che per questo video è tutto raga spero che vi sia piaciuto vi ricordo se fosse così vi ricordo di lasciare un like condividere i video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale cliccando il tasto della campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video detto ciò raga niente spero che vi sia piaciuta questa discesa abbastanza tecnica e niente raga ci vediamo alla prossima bella raga ciao 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 ciao